Antonio Mancini, uno dei fondatori della Banda della Magliana, ha appena pubblicato un romanzo sulla sua storia. Matteo Parlato lo ha incontrato. Qualcuno è vivo. Questo è il titolo dell'ultimo romanzo di Antonio Mancini, ex boss della Banda della Magliana. Il libro è stato presentato a Roma e ha la prefazione di Federica Sciarelli. Vale la pena da leggerlo perché è fatto da uno dei protagonisti, quindi a volte si scrivono libri che diventano delle fiction, che sono un po' romanzati, diventano dei film, però questo invece è un po' tutto vero, nel senso che Mancini racconta da dove viene poi tutto quanto il percorso, cioè come si diventa un bandito della Banda della Magliana e spiega tutto questo contesto criminale di quegli anni a Roma dove la Banda della Magliana la faceva da padrona. Qual è stato il tuo primo furto? Il mio primo furto è stato il furto di una lambretta. Ricordo che la rubammo in tre, io, Gigi il Macellaretto e Alberto Cita. Naturalmente facemmo poca strada perché sulla lambretta stavamo come tre scimmiette proprio, se sbracciavamo sembrava che veramente la lambretta fosse la nostra. Sulla Tiburtina all'altezza di Ponte Mammolo è passata una pattuglia, dove vanno quelli? Ci hanno bloccato e ci hanno chiesto subito di chi è sta lambretta? E noi come tre pappagallini abbiamo detto a nostra, quello che ha detto di tutti e tre, sì, salite sulla macchina, va. Sulla macchina, va.